Musica Intorno alle 3 della notte scorsa una pattuglia della polizia stradale di Bari impegnata in servizi di controllo sull'autostrada A14 è stata allertata dal personale dell'autostrada sulla presenza di alcuni individui sospetti presso il casello di Bitonto La pattuglia si portava immediatamente sul posto e sorprendeva 3 persone con volto travisato da passamontagna che tentavano di forzare la cassa automatica della società autostrade Per evitare l'arresto i 3 sparavano alcuni colpi di pistola in direzione degli agenti che li mettevano in fuga rispondendo al fuoco I malviventi si direguavano nelle campagne circostanti grazie anche all'oscurità facendo perdere le proprie tracce Sul posto lasciavano due passamontagna e gli arnesi che stavano utilizzando per lo scasso Tutti i reperti vengono esaminati in queste ore dalla sezione di polizia scientifica del capoluogo Gli inquirenti sono sulle tracce dei tre fuggitivi